è purtroppo ragazzi caicedo che è andato al genova questa è la notizia che non mi va giù perché poteva farci comodo no era un attaccante utile è un attaccante che poteva coprire tranquillamente sia la prima punta e anche la seconda punta e poi ragazzi già lui stava in macchina e stava zitto e quando entrava spaccava tutto perché ne parli e perché fai dei video dell'addio solo di alcuni calciatori ad esempio perché ragazzi io parlo ovviamente ho anche la playlist dei calciatori che se ne vanno nella Lazio allenatori ma devono essere insomma come parolo l'ulice pensiero cioè che hanno un certo valore per noi laziali non è che posso fare un video così per ogni giocatore che va e viene dalla Lazio perché altrimenti non avrebbe senso no devono essere calciatori speciali e caicedo lo è caicedo lo è speciale ragazzi perché ha fatto tantissimo la Lazio è entrato nel 2017 è stato preso e diciamo non ha fatto sembrava un acquisto fallito ma inzaghi ha dato fiducia noi gli abbiamo aspettato e con calma si è preso la Lazio fatto sta che negli ultimi anni ha fatto veramente bene e si accontentava di essere di entrare ma in partita in corso e di spaccare la partita ma difficilmente lo vedavamo dai primi minuti era un ottimo attaccante molto interessante e riserva e se ne stava zitto quindi prendeva poco stipendio comunque mi sembra sui 3 milioni compresi i bonus quindi comunque per un attaccante come lui sono pochi a mio parere è un calcatore guadoriano e attaccante del Genoa attualmente e questo mi dispiace perché magari un altro anno poi magari ovviamente non rinnovava quindi andava via magari all'estero fuori dall'Europa a prendere più soldi però diciamo che almeno un altro anno mi sarebbe piaciuto tenerlo è che abbiamo deciso di venderlo speriamo che Morissi segni non dico che faccia la stagione che è quello che faceva Caicedo perché forse però per via di gioco era meglio appunto Morissi forse per quello che abbiamo anche preferito lui però Caicedo è un altro calciatore ragazzi Caicedo è forte fisicamente 1.83x84 kg è uno che comunque fa salire la squadra è uno che ha una finalizzazione migliore di quella di Immobile ecco perché lui basta vedere basta vedere quello che ha fatto ragazzi allora vediamo subito Serie A 2020-2021 25 partite 8 gol 5 partite in Champions 1 gol Coppa Italia 1 partita 1 partita anche in Supercoppa Italia ma quello che mi viene da dire è sì ha fatto pochi gol ha fatto ma sono tutti decisivi e comunque non sono nemmeno poche perché 25 partite 8 gol ma dovete contare che in queste 25 partite almeno una ventina è entrato dal settantesimo 75esimo e lui poi in la zona Caicedo più o meno al novantesimo lui ci ha fatto vincere tantissime volte e ha fatto tutti i gol decisivi per questo è entrato nei nostri cuori nei cuori dei tifosi della Lazio e per noi Caicedo significa Lazio e vederla e vedere Caicedo con un'altra maglia in Serie A prima del fuori tiro oppure prima che lui andasse via nella Lazio per andare a prendere più soldi fuori dall'Europa questa cosa sinceramente mi resta sempre qua non ce l'avrò sempre sul gruppone no perché Filippe Caicedo adesso come avete visto oppure se vi mostrerò qualcosa in questo video ha dato tanto e noi io soprattutto ma anche tutti i tifosi della Lazio sono stracontenti di averlo tenuto e di averlo ospitato in questi anni era Lazio che ci ha fatto veramente avere delle grandi emozioni ragazzi emozioni indescrivibili perché quando stai per pareggiare o perdere facevi entrare lui con i zaghi e si sistemava tutto e sembra ragazzi ma è stato veramente un fenomeno poi lui non si lamentava mai mai una parola fuori posto mi sembra di rivedere Parolo e lui dice due grandi capitani ecco la speriamo bene e gli auguro il meglio a lui e noi speriamo che un minimo Murici possa fare se possa essere degno di sostituirlo detto questo in altri scatti video precedenti sotto nella descrizione il link per seguirmi su Instagram se volete iscrivetevi se volete attivare la campanellina per ripermi a tutti i miei prossimi video detto questo ciao Quilotti e sempre Forza Lazio Grazie a tutti